Rivoluzione nel mondo dell'atletica tra Padova, Treviso e Rovigo, Assindustria Sport e Atletica San Vendemiano, due tra le più importanti realtà sportive del Veneto, hanno firmato un contratto di rete di imprese per la promozione dell'atletica e dello sport. Con la firma viene sancita la collaborazione tra i club che oggi contano più di un migliaio di iscritti in tutte le categorie. Oggi abbiamo stipulato un contratto di rete che è una nuova forma di aggregazione tra società e l'atletica. È un progetto innovativo che abbiamo sviluppato Assindustria Sport insieme con Atletica, che è un progetto che ha come obiettivo di condividere le potenzialità che le due società hanno, mantenendo il forte radicamento territoriale che le caratterizza entrambe. L'obiettivo della rete è accrescere le potenzialità dei due club sia sul piano dei progetti tecnici sia nei progetti di promozione scolastica, ma al centro c'è anche l'ottimizzazione delle risorse per gli impianti, l'inserimento degli atleti nel mondo del lavoro, i servizi per le famiglie. Qua ci sono due colossi come associazioni sportive, colossi non solo sportivi, ma sono colossi che hanno delle basi ben consolidate da un punto di vista sociale, che è quello che interessa moltissimo, e mettersi assieme nel senso di mantenere la propria autonomia territoriale, però condividere una progettualità, una rete appunto, che porta a quello che dicevo prima, cioè a una rete, a un obiettivo, a quello di far gol, credo sia molto bello. Tutto è focalizzato su una figura, l'atleta, che avrà la possibilità di crescere e mettersi alla prova, avendo a disposizione strutture e tecnici di Serie A.